Buonasera e bentornati in diretta per Primo Cittadino. Andiamo subito a continuare questi appuntamenti con i sindaci del territorio e do il benvenuto ad Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche. Bentornato nei nostri studi. Grazie Simona, grazie a tutti e tutti gli spettatori che ci seguono. E soprattutto grazie alla regia che non si vede ma comunque sia sempre impegnata per dare un servizio efficiente. Lavorano da dietro le quinte, anzi ne approfitto per ringraziare Riccardo Sora e Cristiana Guerra. Invece i numeri che potete utilizzare è 338 4968 250. Qui potete inviarci un messaggio con Whatsapp oppure potete telefonare per parlare direttamente con il sindaco contattandolo 0721 86 14 33. In primo piano, sindaco, il biodigestore. Io vorrei chiederle tante cose perché c'è stato anche uno scontro politico ma ci sono arrivati diversi messaggi quindi lasciamo la parola ai cittadini. Buonasera, sono un cittadino di Barchi e volevo chiedere al sindaco perché non ha accettato il confronto con il sindaco di Fano. Seconda domanda e poi rispondiamo ad entrambe. Come mai? In cinque anni ha tenuto nascosto i contatti che ha avuto con Ferronia dicendo sempre di non sapere nulla. Facciamo un passo indietro perché il sindaco Seri proprio durante una puntata di Primo Cittadino l'aveva invitata a questo confronto. Però poi lei ha dato una risposta, una replica durante il nostro telegiornale dicendo che preferiva avere degli atti concreti. Allora intanto grazie delle domande perché sono sempre un modo per poter dare una spiegazione sempre più compiuta a quelle che possono essere i problemi, le opportunità, quello che accade nel nostro territorio. Allora intanto non è che uno non ha accettato. Giustamente noi siamo anche parlando col comitato, siamo contenti e felici se il sindaco di Fano, Massimo Seri viene su a Terre Roveresche a spiegare meglio eccetera. Chiaramente ho detto solo che generalmente le amministrazioni pubbliche parlano con gli atti quindi con determine, delibere di consiglio, atti dei dirigenti eccetera e c'è un documento firmato da un dirigente del comune di Fano che comunque su questa questione, soprattutto su questa procedura di manifestazione di interesse che il comune di Fano ha attivato insomma ha appuntato una serie di questioni tra cui appunto il fatto di aver iniziato a colloquiare con Ferroni e con altri ma soprattutto con Ferroni perché in questo atto a firma del dirigente che è il dirigente del comune di Fano, il dottor Celane, dice proprio che l'amministrazione ha scelto come prioritario il sito di Terre Roveresche. Quindi noi non abbiamo nessuna remora al fatto che il sindaco del comune di Fano la terza città delle Marche venga da noi a spiegare, anzi forse sarebbe opportuno viene a spiegare proprio questo atto che è scritto nero su bianco quindi non è che ce lo siamo inventati noi. Quindi vuole semplicemente rimandare questo appuntamento? No rimandare, può venire su anche domani se lui vuole noi siamo a Terre Roveresche sia il sottoscritto che il comitato quindi noi lo accogliamo, quindi viene su e lo spiega. Sull'altra questione ormai è un percorso questo che va avanti da tempo perché la conferenza dei servizi, la presentazione del progetto è stata fatta nel lontano ormai 2020 anche se l'autorizzazione è stata autorizzata dalla provincia nel 2022. Su questo come tutte le cose se chiaramente chi ha fatto la domanda sicuramente e penso avrà letto in maniera dettagliata e attenta il progetto perché tutti i progetti, non è che un progetto può essere giudicato negativo o positivo dal nome, dice faccio il biodigestore è una cosa negativa a prescindere. Non è vero perché non so se questo telespettatore o telespettatrice che ha posto la domanda probabilmente saprà anche che il comune di Terre Roveresche ha presentato un progetto di entrata in graduatoria con dei fondi del PNRR per realizzare il proprio piccolo impianto di digestione anaerobica per i soli rifiuti del comune di Terre Roveresche perché fondamentalmente quello che è l'appunto che noi abbiamo fatto su tutto il progetto oltre alla localizzazione è il fatto che non si sa che tipologie di rifiuti ci vanno dentro. Quindi alla fine parlare di un impianto di digestione aerobica o anaerobica, in questo caso anaerobica non è che sia una cosa brutta a prescindere va calata nel contesto in cui viene messo e soprattutto va calato con quello che ci va dentro. Ecco più o meno da 450 tonnellate. Il nostro, quello che abbiamo presentato noi come comune è di 450 tonnellate di euro all'anno che è il quantitativo di organico che il comune di Terre Roveresche produce anche perché il comune di Terre Roveresche siamo andati sul giornale anche qualche giorno fa su riviste specializzate noi gestiamo la raccolta differenziata da soli e abbiamo anche attivato la tariffazione puntuale e il fatto di legare la tariffazione puntuale alla quantità di CO2 che ogni persona e quindi complessivamente la comunità risparmia e quindi anche questo ci ha permesso di aumentare i ricavi da quella che è la raccolta differenziata e quindi piano piano nel futuro abbassare la tariffa ai nostri cittadini perché l'obiettivo è quello. Andiamo avanti con i messaggi perché ce ne sono arrivati due sullo stesso argomento. Buonasera, volevo sapere perché il mattatoio di Schieppe ha chiuso e se riaprirà. Noi elevatori siamo in difficoltà dobbiamo andare a Urbani o a Corinaldo e non si può. Buonasera, volevo chiedere al sindaco che fine abbia fatto il centro macellazione di Schieppe e per noi elevatori è molto importante. Conosco molto bene la problematica perché diversamente dal fatto che il mattatoio è posizionato a terra roveresche ma come penso tanti sapranno è gestito dal comune di Colli al Metauro e dal comune di Fano perché la proprietà è la loro. Dalle informazioni che so perché me l'ha comunicato il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti il mattatoio, la gestione è stata presa dalla Bovimar che adesso deve fare una serie di lavori di miglioria quindi ecco perché adesso il mattatoio è chiuso speriamo che riapra nel più breve tempo possibile però io tante volte rinnovo di nuovo l'appello che feci tanto tempo fa quando c'era il sindaco di Colli al Metauro c'era Stefano Aguzzi l'ho rinnovato a Pietro lo rinnovo un'altra volta noi come comune di terra roveresche siamo disponibili ad entrare in parte nella proprietà del matatoio perché è assurdo che c'è una struttura che è nel nostro comune ma del quale noi non essendo proprietari non è che possiamo avere voci in capitolo. Altri messaggi volevo chiedere se chi risarcisce i danni alle gomme di una macchina per le buche che ci sono sulla strada? Dipende che strada è se è provinciale sarebbe opportuno che il nostro telespettatore il telespettatore ci definisse bene la strada perché se è provinciale dovete rivolgere la domanda chiaramente alla provincia se fosse statale in questo caso all'ANAS se fosse comunale scrivete al comune ci sono delle strade particolarmente problematiche nel vostro territorio nel nostro comune quelle comunali no quelle provinciali sì ma lì sfondiamo un capitolo aperto ancora non siete arrivati al dunque quindi per sistemare queste strade se viene a fare una passeggiata su da noi ti accorgerai che alcune strade provinciali sono hanno bisogno insomma di di un intervento importante volevamo sapere se ci sarà la sostituzione dello scuola bussa di piagge con un nuovo mezzo che cosa è successo oggi? Il nuovo mezzo di questa mattina io ho saputo verso le due che c'è stato un problema con i freni che si sono bloccati così mi ha riferito l'autista adesso è stato portato in officina domani pomeriggio sicuramente ci sarà un altro mezzo domani insomma nella corso del ritorno dovrebbe esserci un altro mezzo che assicura il ritorno e poi vedremo Intanto avete mantenuto la promessa per l'entrata in funzione di questo servizio scuola bussa Quello l'abbiamo detto in consiglio comunale su proposta anche della nostra minoranza abbiamo potenziato quello che può essere il trasporto scolastico perché giustamente ci sta con questo fatto di aver fatto dei lavori quindi costantemente stiamo migliorando la sicurezza dei nostri plessi quindi di conseguenza siamo venuti incontro perché il plesso di San Giorgio ancora non è aperto e quindi come promesso abbiamo detto se non si apriva il 6 gennaio potenziavamo quella che era la nostra il nostro percorso le nostre corse degli scuola buss l'abbiamo fatto siete andati incontro non solo alle famiglie ai genitori ma anche ai bambini perché si dovevano svegliare molto presto sì, ai bambini è chiaro che noi abbiamo un territorio abbastanza ampio il trasporto scolastico è un trasporto capillare perché di fatto in alcuni contesti arriviamo quasi davanti alla porta di casa a prendere i bambini l'altro discorso su qualche volta ma questo tanti sindaci come me lo sanno specialmente dei comuni più piccoli molte volte con la scuola con la direzione scolastica eccetera è difficile colloquiare perché mettere insieme tutte le esigenze orari eccetera non è così semplice quindi può capitare che specialmente i bambini che stanno nelle parti più lontane nelle frazioni più lontane dalla scuola possono avere degli orari un po' più lunghi per il trasporto scolastico ma di fatto è così allora torniamo un attimo a parlare del messaggio che è arrivato prima la strada è quella che va da Urciano a San Filippo è provinciale quindi se ha avuto un danno mi dispiace bisogna che però la richiesta vada indirizzata alla provincia invece un'altra persona vorrebbe sapere se quest'anno alle strade vicinali verrà fatto qualcosa come ad esempio la Ghiaia dato che lo scorso anno non è stato fatto nulla adesso io non so di che strada parla il nostro insomma chi ha fatto la domanda però costantemente tutti gli anni più o meno noi passiamo con la Ghiaia quindi adesso partiremo e passeremo anche lì quindi se l'anno scorso non è stata fatta quindi presumo che possa essere nel municipio di Piagge o forse di San Giorgio qualche strada quindi quest'anno poi fra poco passeremo invece per il polo scolastico 06 Piagge i lavori sono iniziati quindi ormai lì si va avanti si va avanti punto quindi contiamo adesso dare delle tempistiche in questo momento forse non è uno potrebbe anche sbagliare però l'idea comunque non il prossimo anno scolastico a settembre ma quello prossimo del 2024 di inaugurarlo e utilizzarlo di quant'è l'investimento? L'investimento è di 2 milioni 200 mila euro di cui 1 milione 936 mila euro è un contributo dello Stato quindi per la stragrande maggioranza è pagata con un contributo a fondo perduto e quindi diventerà finalmente una nuova struttura chiaramente all'avanguardia dal punto di vista energetico della sicurezza sismica e quant'altro che andrà ad accogliere i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia di Piagge e di San Giorgio e in più all'interno da non confondere con il centro dell'infanzia che invece abbiamo nel municipio di Barchi e lì chiaramente rimarrà all'interno di questo polo nascerà anche una sezione partendo dal nido montessoriana perché chiaramente è un'esigenza un po' di tante famiglie che vogliono cercare anche modi diversi sistemi diversi di insegnamento quindi ci diversifichiamo anche qua quanti bambini complessivamente potrà ospitare? allora la struttura è stata dimensionata per ospitare fino a 90 bambini insomma un bel numero una risposta importante per il territorio una risposta importante e soprattutto una struttura finalmente che può essere degna di essere chiamata scuola dell'infanzia è sicura dunque buonasera chiedo al sindaco se è possibile fare qualcosa per gli extracomunitari che camminano a piedi da Orciano a Montebello basterebbe un giubbotto rinfrangente e si rischia più volte di investirli allora questo sapevo di questo qualche volta è capitato anche a sottoscritto di incontrarli adesso parleremo con la cooperativa che gestisce la struttura a Montebello che li ospita e chiaramente se non riescono loro gli doteremo noi di qualche gileca trainfrangente così che alla sera la loro passeggiata può essere più sicura vorrei chiedere alla regia Cristiana se riesce a mettermi la locandina intitolata tutti impegni noi dimizziamo le tasse perché vorrei chiedere a lei spiegandolo anche a tutti i telespettatori di Fano TV che non sono ecco solo quelli del suo comune di che cosa si tratta questo è un progetto che ormai è datato diciamo è vecchio perché è iniziato quando ancora ero sindaco del comune di San Giorgio e quindi questa prende un po' le mosse da quello che era la normativa ormai di qualche anno fa che si chiamava appunto baratto amministrativo dove c'è la possibilità di persone che prestano una parte del proprio tempo giornaliero al comune quindi noi in contropartita in questo caso dimezziamo la tariffa dei rifiuti c'è stata partecipazione? c'è tantissimo l'anno scorso erano 50 volontari quest'anno penso saremo più o meno su quella falsa rega lì forse anche qualcuno in più ma lo avete fatto anche per i percettori del reddito di cittadinanza? questo non c'entra niente con il reddito di cittadinanza certo sono due cose assolutamente diverse ma se parallelamente avevate fatto qualcosa insomma anche con loro no con loro ci abbiamo provato il discorso sapete benissimo forse anche a Fano è lo stesso problema ma in tutta Italia le normative sono molto più complicate non è così possibile utilizzare direttamente chi percepisce il reddito di cittadinanza ma c'è tutto un percorso bisogna fare i famosi i famosi PUC coinvolgere l'assistente sociale psicologi eccetera è un po' abbastanza faraginoso come di solito sono le norme in Italia un altro messaggio per lei salva Antonio Palazzo dei Della Rovere a Montebello come procede? in quanto tempo deve rimanere una voliera di lusso per piccioni? ciao Diego ciao Diego voliera di lusso no adesso la voliera serve per appunto catturare i piccioni quindi poi la seconda fase sarà la pulizia di quello che i piccioni hanno lasciato e poi piano piano stiamo approntando il progetto per ristrutturare la parte interna è stato fatto già un un grande sforzo ma più che sforzo era doveroso riappropriarsi appunto della proprietà del palazzo stesso dunque per quanto riguarda le strade vicinali le chiedono in zona Rupoli e Montebello se è possibile intervenire in quella zona lì in alcune siamo già intervenuti adesso continueremo prima dell'inverno avevamo già sistemato una strada adesso piano piano sistemeremo le altre per il 2023 c'è anche un progetto che riguarda una cooperativa di comunità locale a cui affidare questa raccolta differenziata come funziona esattamente cosa avete pensato la cooperativa di comunità che è un progetto che nasce già dalla precedente consigliatura questo invece è il modello del carbon waste print quello che vi dicevo prima quindi dicevo con la cooperativa di comunità è una una struttura un'istituzione che al quale non vogliamo affidare solo la raccolta differenziata ma un po' tutti quelli che sono i servizi del comune questo è un po' un pallino nostro anche soprattutto del sottoscritto che vede appunto il fatto di lasciare i servizi che il comune dà all'interno del territorio perché in questo modo si riescono anche a lasciare le risorse sul territorio e quindi a sostenere ancora di più quelle che sono le persone perché le persone per sostenere non serve dargli un sussidio è forse meglio dargli anche un piccolo lavoro e quindi essere impegnati quindi la cooperativa di comunità e di questo ce ne sono tantissimi esempi in tutta Italia non è che siamo i primi a farla e quindi questo ci permetterà poi di attuare questo modello in cui il cittadino di Terro Avereschi diventa consumatore dei servizi ma anche diventa allo stesso tempo attore principale anche lavoratore di quei servizi che tipo di servizi tutti quindi partendo dalle mense scolastiche in questo caso il servizio da raccolta differenziata il manutenzione del verde pubblico servizi sanitari anche l'illuminazione pubblica anche l'illuminazione pubblica si si può passare l'illuminazione pubblica quindi anche tutto quello che è la manutenzione altri messaggi per lei per quando è prevista la fine dei lavori di copertura della piscina allora la copertura della piscina dovrebbero adesso ormai abbiamo fatto una riunione anche l'altro giorno a breve ripartire insomma verso la metà di febbraio con i lavori esterni di preparazione delle fondazioni e poi vengono a installare la piscina da una tempistica che ci siamo dati noi andremo riutilizzeremo anche quest'estate perché chiaramente a giugno si utilizza l'aperta poi quando chiuderà quindi verso settembre monteremo la struttura che chiude la piscina e quindi anche una nuova pavimentazione tutta una nuova pavimentazione abbiamo fatto i nuovi spogliatoi un nuovo ingresso sotto già abbiamo fatto un nuovo sistema di filtrazione quindi fondamentalmente quasi tutta nuova in questo caso invece il finanziamento? finanziamento per la copertura una parte 500 mila euro col fondo sport e periferie una parte 300 mila euro con un mutuo a tasso a tasso a tasso zero dall'istituto del credito sportivo e 200 mila euro l'abbiamo messi noi come comune con il nostro bilancio insomma anche i vostri tecnici comunali cercano di puntare molto al reperimento di queste risorse questa è la prima cosa un buon amministratore pubblico deve sempre intercettare progettare eccetera progettare anche prima che escano i bandi così uno è già pronto e sempre in questo anno vedranno la luce due importanti rotatorie Piagge e Orciano esatto Piagge e Orciano sono poi due rotatorie del quale tutte e due beneficiano di un importante contributo regionale quella di Piagge di 100 mila euro e quella di Orciano che vedete qua rendering di 250 mila euro tutti e due investimenti da parte del dipartimento delle infrastrutture che sono destinati al comune terraveresche quindi sì due investimenti importantissimi che porteranno non solo a dare una visione diversa un decoro urbano diverso ma soprattutto una sicurezza importante perché lì ce n'è proprio bisogno specialmente a Orciano quella zona dove addirittura lì l'ingresso di quelle abitazioni che vedete in foto è proprio direttamente sulla strada quindi è un riordino urbano una sicurezza urbana e soprattutto un decoro un abbellimento marciapiedi compresi? e lì a quella di Orciano sono compresi anche tutti i marciapiedi che servono per arrivare verso la rotatoria la fine dei lavori c'è una scadenza? allora l'inizio sarà quest'anno la rotatoria non sono lavori importanti come potrebbe essere il recupero di un palazzo storico come Montebello quindi se non ci sono impegni potrebbe anche essere che alla fine di quest'anno entrambe le rotatorie siano finite la rotatoria è un lavoro abbastanza semplice certo mi scusi volevo chiedere al sindaco a Piagge dietro il deposito dell'ANAS non è tanto bella penso che intendeste quella discarica? più che discarica lì c'è il solito se dietro più che ANAS dovrebbe essere il capannone della provincia non dell'ANAS e lì più che discarica c'è un un cumulo di materiali inerti perché c'è della ghiaia e altri e poi dopo sì di fianco lì ci sono alcuni tubi appoggiati da delle ditte che hanno fatto dei lavori tra quei dotti eccetera se potremo anche adesso intervenire e chiedere a chi l'ha messo di pulirlo sì quando inizieranno i lavori al Lago delle Rose? Lago delle Rose stiamo aspettando perché dicevo prima noi in Italia siamo così il parere e l'autorizzazione dalla regione perché questo è per iniziare a tagliare le piante io spero che per la primavera di avere in mano l'autorizzazione e quindi iniziare con il primo passo è anche atteso dalla cittadinanza è atteso specialmente da barchi da una vita perché io non lo so perché fondamentalmente non l'ho mai visto ma chi l'ha visto insomma lo ricorda come un'opera infrastrutturale e importante assolutamente sì infatti insomma vediamo poi il riscontro da parte dei cittadini un'altra segnalazione in questo caso riusciamo a farvi vedere la fotografia perché ci è arrivata nel pomeriggio l'8 giugno 2019 le dicono è stato inaugurato il Palasimone con una bellissima scritta creata con piantine sempreverdi peccato scrive il telespettatore che risulta carente la manutenzione in tutte le stagioni per il rispetto della mamma di Simone potrebbe prendere in considerazione la manutenzione periodica Sindaco? Noi la facciamo adesso forse dovremmo farla più frequentemente questo è vero questo lo so perché tempo fa parlai anche con la mamma di Simone questo è vero con la Doriana che saluto che probabilmente ci segue quindi vedremo di intervenire in maniera più decisa ci stanno arrivando altre foto però non riusciamo a montarle insomma sistemarle in presa diretta ci dicono però questa è la situazione della strada d'ingresso a Barchi da Sorbolgolo lungo stessa cosa venendo da da Mondavio sempre provinciale sempre provinciale infatti lo sottolinea però insomma questi problemi persistono lei ha avuto anche ultimamente un contatto con il presidente Paolini o con i tecnici più che con il presidente con i tecnici adesso io riporto diciamo qui non è che voglio fare polemica assolutamente no però c'è un problema è un po' la cartina al tornasole la settimana scorsa quando abbiamo avuto quella insomma quella pioggia insistente duratura perché quasi due giorni di pioggia il lunedì ho chiamato il responsabile della parte nostra facendogli presente alcune problematiche guarda manda alcuni operai e lui mi ha risposto io il lunedì gli operai per mandare non ce li ho perché ce li ho il martedì questa è la situazione che noi viviamo nell'entroterla quindi quando si parla di turismo sosteniamo noi siamo nell'itinerario della bellezza come tanti altri comuni eccetera ma se non sistemiamo le arterie provinciali o meglio ancora se nella parte che va dal metauro verso il cesano perché probabilmente in altri contesti dove abbiamo altri fiumi come il foglia le infrastrutture viarie forse sono messe meglio non sistemiamo le infrastrutture è inutile parlare di turismo di bellezze non ha senso perché non ci si riesce ad arrivare davanti da Fiorini una frana su cui la provincia era intervenuta ma è intervenuta forse nella maniera non ottimale e quindi di conseguenza oggi siamo in una condizione più disastrosa di prima questo è chiaro però non è che il comune può sostituirsi alla provincia già noi abbiamo le nostre strade il comune terravereschi ha 125 km di strade asfaltate e 130 di strade bianche e noi facciamo la manutenzione su quella più o meno siamo a posto dappertutto non possiamo sostituirci alla provincia e andare a fare la manutenzione anche su quelle provinciali sarebbe opportuno che probabilmente e mi appello al presidente ma anche i consiglieri provinciali che un pochettino venga riprogrammata quelli che sono gli interventi perché forse una parte del territorio va compensato perché forse ci si è dimenticati che c'è una parte da Fano salendo su da San Costanzo oltre che va attenzionata molto non parliamo poi della provinciale che da San Giorgio va verso Monteporsio anche quella è un passaggio disastrato disastroso magari anche i cittadini possono contattare la provincia ma possono contattare e che però anche qui questo è un passaggio ormai l'ultima istituzione rimasta è il comune il sindaco infatti chiamano anche se la strada è provinciale chiamano al sì e chi chiami certo è il loro riferimento riguardo alla Tarip le chiedono viene applicata una tarifa variabile in base ai chili cioè viene pesato il bidone oppure al numero di svuotamenti viene applicata come abbiamo sempre detto al numero di svuotamenti la variabile è misurata anche perché ad oggi non esiste un sistema che ci permette ad ogni scarico di calcolare quello che è la quantità di rifiuti noi abbiamo fatto una campagna in cui più o meno siamo riusciti a stimare quanti chili di rifiuto corrisponde a uno scarico ecco perché bisogna mettere fuori il bidone quando è pieno non quando è metà perché viene conteggiato sempre uno scarico quindi un conto è che sia metà un conto è che sia pieno abbiamo tantissimi altri messaggi però ci dicono che ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità restate con noi bentornati in diretta siamo insieme al sindaco di Terra e Roveresca Antonio Sebastianelli vado a leggere altri vostri messaggi buonasera ho ancora qualche speranza per un lampione che le ho chiesto l'ultima volta in via Montepiano 6 per il via e vai di macchine di notte nella strada di breccia che arriva in una casa abito sola d'estate sono un po' un telegramma però era un problema di illuminazione pubblica dovrebbe essere sì arriviamo è già stato ordinato quei lampioni è un lampione fotovoltaico quindi poi arriveremo anche dalla signora sì perché il lampione fondamentalmente è sicurezza perché poi la luce specialmente chi sta in aperta campagna o in zone insomma un po' periferiche del nostro territorio io ringrazio il sindaco per le lezioni di Pilates e ginnastica funzionale che si possono fare sia nella palestra del bocciodromo di Orciano sia in quella di Piagge quindi è un servizio che viene sì è un servizio che diamo da tanti anni specialmente apprezzato a tutte le persone ecco dovremmo potenziarlo perché chiaramente questi servizi funzionano se riusciamo a essere il più capillare possibili Sindaco può mettere qualche dosso sulla strada fornace lì chi cammina a piedi è in pericolo le auto vanno troppo forte strada fornace anche qui è una strada provinciale quindi noi riusciremo potremo mettere dei sistemi stiamo ragionando perché faremo una verifica per vedere se possiamo anche installare un autovelox fisso perché conosco il problema abbiamo fatto un lungo marciapiede che collega la fornace con il monumento di Orciano quindi già il marciapiede riesce a dare un po' di sicurezza però capisco la problematica e quindi cercheremo di orientarci e di risolvere il problema in questo modo ancora bollette le chiedono come mai ci hanno legato anche una fotografia nella bolletta Tari per il conteggio è fatto in base ai metri quadri e non alla CO2 allora se ha legato la foto della bolletta non so se ha legato il fronte o il retro ma nel retro troverà tre righe allora la prima è la quota fissa la quota fissa è calcolata in base ai metri quadri la seconda riga è la variabile calcolata che è calcolata in base ai componenti del nucleo familiare la terza è la variabile misurata che è calcolata in base agli scarichi si chiama tariffazione trinomia quindi ecco la tariffa viene calcolata in questo modo nel passato invece veniva calcolata solo sui metri quadri e componenti quindi funziona in questo modo grazie per queste spiegazioni mi dicono che c'è qualcuno che vuole parlare con lei sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera chiamo da San Lorenzo sono diciamo un telespettatore affezionato la sentiamo un po' male ah buonasera chi è gabito? non le prende si mi sente? si sente male ah si sente male niente prego prego no no volevo dire che si è parlato tante volte questa settimana della Colle Marathon con partenza quindi da Barchi io sono molto affezionato al Castello di Barchi quindi chiedo una valorespettura ulteriore del Castello di Barchi che mi piace tanto grazie buona serata Cristiana se possiamo richiamiamo la signora per capire bene la domanda sicuramente si parlava di Colle Marathon e se non ho capito male le piace tanto questa manifestazione ora ci sono stati un po' di problemi chiedendo rassicuriamo anche la signora avete letto sul giornale la Colle Marathon si farà anche quest'anno siamo riusciti perché chiaramente questa associazione ha bisogno di un sostegno perché a differenza di tante maratone e manifestazioni che ci sono in tutta Italia la Colle Marathon è bella al di là del percorso perché è fatta da 99% da volontari anche qui di Fano la Proloco Gino Bartolucci eccetera aiutano come tantissime altre associazioni sparse sul territorio ecco tutte le Proloco tutti i comitati dei nostri comuni qui di Badi di Terre Roveresche oggi Mondavio San Costanzo Mondolfo Fano eccetera quindi ecco si farà bisogna starli dietro io ho proposto in questo incontro che è stato promosso dal sindaco di Fano però di dare un sostegno pluriennale a questi ragazzi che organizzano primo fra tutti il Presidente per salutare e ringraziare tutti Annibale Montanari e quindi ecco per avere delle garanzie economiche si triennale almeno ho proposto dei contributi triennali quindi una convenzione che possa essere sottoscritta perché chiaramente hanno necessità di un sostegno e dicevo la Colle Marathon è bella perché appunto si chiama Maratona dei Valori non è che si va per correre o per vincere ma la maggior parte delle persone vanno perché hanno un'emozione nel fare la Colle Marathon però anche se l'arrivo fosse stato a Senigallia lei insomma le sarebbe se l'arrivo fosse stato a Senigallia l'arrivo era a Senigallia e poteva essere più bello o meno bello quest'anno finalmente forse la polemica ha servito anche per dare una scossa un po' un po' generale se l'arrivo è al Pincio chiaramente non c'è miglior arrivo di farlo al Pincio quindi ecco una partenza come ha detto anche gli amministratori di Fano Barchi emozionante speriamo che quest'anno ci sorprendano anche con un arrivo che sia emozionante altrettanto a proposito di Barchi la signora chiedeva di valorizzare il castello allora il castello di Filippo Terzi ci stiamo lavorando insieme noi stiamo investendo tantissimo già anche in questo periodo su finire il restauro di quello che è la collegiata sicuramente Marco De Santi ci sente quindi lo sa perché lui è un po' lo storico non solo di Barchi ma anche di tutto quello che gravita intorno a Barchi Filippo Terzi abbiamo appunto iniziato lo dicevo prima con l'itinerario della bellezza un percorso importante ma con tante altre politiche che abbiamo messo in campo di promozione del nostro comune del nostro territorio e quindi il problema è sempre il discorso della vivibilità ma speriamo che poi la provincia risolva anche questo piano piano e quindi questo è il percorso che abbiamo iniziato e il fatto di aver acquisito anche il castello di Montebello ci permette di creare un itinerario completo su tutto il nostro territorio a proposito di itinerari già lo aveva accennato prima avete aderito a questa rete importante di confcommercio parliamo degli itinerari della bellezza ma anche quelli del silenzio e della fede esatto e tanti anni l'itinerario del silenzio e della fede è arrivato adesso l'anno scorso però l'itinerario della bellezza noi siamo lì con Varotti da diverso tempo ecco sì perché noi abbiamo questo santuario ne abbiamo anche un altro ma qui ci fermiamo a San Pasquale abbiamo il santuario di San Giuseppe a Spicello quindi siamo pieni appunto di queste evidenze storiche importanti religiose poi San Pasquale è anche il patrono del nostro comune scelto dai cittadini con un referendum e quindi ecco era doveroso anche noi essere all'interno di questo itinerario come poi siamo all'interno anche di altri itinerari quello della musica dei cori delle bande quindi siamo un po' dappertutto in questo momento siamo a piagge molto belle noi abbiamo un paesaggio questo è l'Ipogeo un gioiellino molto caratteristico esatto viene visitato e valorizzato Sindaco abbastanza l'Ipogeo sì diciamo noi adesso evitiamo polemiche però abbiamo cambiato un po' la gestione insomma i numeri sono elevati molto elevati per quello che il sito a prescindere dalla gestione comunque è un sito importante sì sì sono molto elevati ormai la strada della cupetta San Giorgio ha delle belle buche sono pericolose sì le chiuderemo allora sì sì ok in questo caso non è provinciale no questo è comunale è giusto qualche buco nelle strade si può essere tutte perfette non saranno sarebbe difficile poi anche dopo il maltempo quando verrà anche dopo il maltempo poi spesso si ricreano quindi è difficile quando verrà trasferita invece la farmacia nell'ex scuola di Piagge allora ci stiamo lavorando quest'anno qui è l'anno in cui partiranno insomma i lavori il progetto è pronto in linea di massima e quindi lì l'ex scuola elementare di Piagge verrà utilizzata e diventerà un polo sanitario farmaceutico perché la farmacia piccolina verrà trasferita lì quindi avrà locali molto più grandi più accoglienti quindi con la possibilità anche di dare altri maggiori servizi passiamo alla cronaca si possono installare delle telecamere di videosorveglianza nelle frazioni più piccole del territorio dato che ci sono stati dei furti allora noi abbiamo installato su alcune pate adesso quest'anno dovremo installarne almeno altre due posizioni i famosi telecamere che leggono le targhe perché queste sono quelle che le forze dell'ordine chiedono con più insistenza telecamere di contesto allora in alcuni punti le abbiamo installate abbiamo installato una Piaggi una Dorciano e una Barchi adesso sicuramente il territorio sarà maggiormente attenzionato però chiaramente non è che potremo mettere telecamere ovunque questo è naturale adesso io non so che frazione dove è stata probabilmente forse in aperta campagna in una zona periferica non lo so però quello che noi cercheremo di aumentare il numero di telecamere ma metterle dappertutto diventa un po' problematico a Orciano invece è stata attivata l'apotes del 118 finalmente dall'anno scorso è partita il 118 H24 ed è un servizio non solo per il comune anche se tanti cittadini specialmente chi sta lì vicino adesso sono sicuro perché c'è l'ambulanza a due passi sì è vero che ha due passi ma ci tengo a sottolineare che l'ambulanza è a servizio di tutto il territorio non solo di terra roveresche ma anche di un territorio molto più ampio perché chiaramente quell'ambulanza è azionata con il 118 quindi uno chiama da dove vuole chiaro che avere un'ambulanza in quel preciso punto significa aver coperta un'esigenza di un territorio come il nostro terra roveresche ma anche mondavio barchi e quindi ecco i cittadini sono più sicuri e poi c'è anche l'ampliamento della casa di riposo comunale stiamo lavorando anche sull'ampliamento della nostra casa di riposo certo per aumentare il numero dei posti questo sì quanti? dunque adesso mi sembra che sono 13 posti in più quindi avete in mano il progetto oppure siete ancora in fase di progettazione? il progetto preliminare l'abbiamo già prontato adesso dobbiamo passare con gli ulteriori insomma gradi di progettazione guardiamo quali foto sono rimaste ci dovrebbe essere anche il museo della corda eccolo qua e del mattone di Orciano questa è la riapertura l'anno scorso del museo della corda del mattone affidato come gestione della prologo perché questo era un progetto che abbiamo iniziato un po' di tempo fa che prevede appunto il fatto che le nostre associazioni ecco come il discorso della cooperativa di comunità vadano a gestire quelle che sono le strutture che abbiamo sul territorio quindi piuttosto che prendere o chiamare associazioni da fuori noi vogliamo sostenere chi sta all'interno di Terre Roveresche un bel progetto salve per quest'anno è previsto un bonus per i nati nel 2023 nel comune di Terre Roveresche? allora per quest'anno il bonus ci sarà ma cambierà forma non sarà un bonus come quello che è stato dato negli anni passati sarà un bonus che alla fine viene elargito sotto forma di servizi per i nuovi nati quindi che può essere un servizio tra tutti il centro dell'infanzia che noi abbiamo a Terre Roveresche ma un buono per acquistare prodotti che chiaramente possono servire alla prima infanzia quindi dei pannolini e tutto altro ecco cambia forma ma rimarrà vediamo se riusciamo ad aiutare questa telespettatrice per cambiare residenza che documenti bisogna portare il comune è lo stesso sempre a piagge 200 metri di distanza va in comune va all'ufficio onagrafe a San Giorgio si presenta e chiaramente l'unico documento che deve portare oltre alla patente alla vecchia carta d'identità eccetera è il o il contratto d'affitto di comodato di proprietà dell'immobile in cui si andrà ad abitare o la dichiarazione che il proprietario dell'immobile ospita quella persona tra le buche scavi fatti per i lavori fibra chi deve ripristinare poi in quel caso la ditta suppongo che fa i lavori deve ripristinare open fiber su questo sfonda il telespettatore o la telespettatrice una porta aperta io non so quante lettere ho inviato continuerò ad inviarne ancora perché in alcuni contesti i lavori di ripristino non sono stati fatti a regola d'arte e quindi dovremo continuare a sollecitare perché non era bisogna che uno lascia come ha trovato alla persona che ci ha inviato una foto ci ha scritto questa non è provinciale mi si è lagata a casa sta corollando tutto e passate solo messaggi di comodo non è così ci deve formulare un messaggio specificando la via che cosa è successo perché altrimenti facciamo difficoltà a raccontare la sua segnalazione e a darle una risposta adeguata quindi qualche qualche dettaglio in più buonasera per la fine dei lavori di ristrutturazione di ruderi nel 2023 ci sono incentivi? allora ci stiamo lavorando perché chiaramente tutti gli anni quando uno è pronto al bilancio deve fare i conti con quello che succede con i trasferimenti dello Stato eccetera noi puntiamo a mantenere questa forma di incentivo che abbiamo iniziato fin dal ormai dal 2018 e quindi ecco la domanda sicuramente chi la posta la può fare chiaramente deve ricordarsi che se acquista un immobile deve farla entro tre mesi perché il regolamento prevede quello se invece è una domanda che tende ad un contributo per la ristrutturazione al termine di un mese della fine dei lavori quindi la domanda suggerisco di presentarla comunque poi noi stiamo lavorando perché comunque è un incentivo importante che ci permette anche perché dall'anno scorso dal 2021 al 2022 abbiamo avuto un aumento di 20 persone che non è tanto ma per Terre Roveresche che perdeva 50 abitanti all'anno è tanto certo guardiamo ancora qualche fotografia insieme così lei le commenta questo è il centro diurno che abbiamo inaugurato appena insomma ristrutturato eccolo qua a dottor Carlo Amodio punto esatto questa è una mostra e una presentazione fatta all'ipogeo di Piagge durante anche il momento della della campagna contro il tumore al seno quindi ci sono anche diverse iniziative culturali le nostre associazioni sono molto vive vivaci sul territorio e ci aiutano insomma a fare promozione nel migliore dei modi certo e le chiedo non c'è la possibilità di un bus che passi anche nelle frazioni ci stiamo lavorando è un progetto che volevamo iniziare attivare anche la volta scorsa noi l'abbiamo chiamato trasporto di comunità e quindi quest'anno noi lavoreremo per attivarlo invece organizzerete anche delle riunioni con i cittadini degli incontri confronti fa parte del programma adesso ne faremo una adesso la data non so se sarà metà o febbraio o giù di lì comunque in cui presenteremo il bilancio di previsione faremo anche un punto di quello che è l'amministrazione di Terra Roveresca e potremo anche fare un punto di quelli che sono stati i cinque anni precedenti perché ormai abbiamo cinque anni quindi ormai camminiamo come se fossimo un bambino fosse un bambino piccolo insomma muoviamo i primi passi e l'altra cosa per non dimenticarmi il 5 di marzo a Barchi partendo proprio dal Palasimone ci sarà una camminata che si chiama Scendiamo in strada che andrà verso il sito appunto dove la provincia ha rilasciato l'autorizzazione per realizzare insomma questo impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti da parte di questa ditta privata quindi il comitato chiaramente con il sostegno la collaborazione del comune organizza questa manifestazione sempre a sostegno e a sensibilizzare questa tematica quindi il 5 di marzo 5 marzo perché poi l'8 marzo ci sarà appunto la discussione al TAR del ricorso che abbiamo presentato esatto per la piscina comunale zona Bocciodromo Orciano per quanto è prevista la fine dei lavori? eh lo dicevamo prima noi adesso apriremo a giugno così come poi quando verrà chiuso a settembre faremo installeremo la copertura e quindi per ottobre avremo terminato ottobre novembre avremo terminato i lavori quindi avremo una piscina chiaramente coperta che d'estate si può aprire invece allora mi dicevano abbiamo anche un'altra foto che riguarda i nomadi si tratta di un concerto che ha riscosso anche un bel successo sì un grande successo l'anno scorso il 25 aprile in occasione della fiera di San Giorgio quest'anno in occasione della fiera di San Giorgio che è sempre il 25 aprile ci sarà un altro concerto adesso non vi dico chi sarà ma ci sarà un altro concerto importante quindi avete già in mente i vari eventi da organizzare nel corso dell'anno perlomeno i principali ci stiamo già lavorando allora sugli eventi che organizza l'amministrazione direttamente se non so uno è questo gli altri sono tutti organizzati dalle associazioni al quale il comune dà un sostegno contributi economici organizzativi e quindi lì adesso aspettiamo quello che può essere i programmi che ogni associazione farà e che a cascata va anche a beneficio del territorio soprattutto del territorio perché noi tante volte riusciamo ad organizzare servizi e attività tanti servizi penso dell'articolo 32 ma di tantissime altre associazioni solo perché ci sono loro se no sarebbe molto difficile eh sì tante persone che si impegnano buonasera volevo chiedere se la mostra di aeromodellismo è destinata ad essere aperta solo in occasione della fiera oppure se ci sono anche altri progetti altre idee in merito stiamo lavorando perché come gli altri due musei quindi Orciano e Lipogeo sono stati già appaltati il prossimo che dovremo aprire sarà quello di San Giorgio assieme a San Giorgio anche la mostra di aeromodellismo dedicata costruita diciamo perché è stato lui l'artefice dei vari modellini di Quinto Sartini Per i nuovi residenti nel 2023 ci sarà l'esonero dal pagamento della Tari? Sì l'abbiamo confermata a settembre dell'anno scorso quando abbiamo approvato il regolamento della Tari per quest'anno e quindi è stata confermata l'agevolazione dell'esonero dal pagamento della Tari per i primi 5 anni per le nuove residenze Sindaco siamo in chiusura però vorrei chiederle parlava prima di questi 5 anni quindi si può fare una sorta di bilancio una sua prima impressione intanto Fredo anticipiamo quello che lei pensa di questi lunghi anni in cui sono stati portati a termine tanti progetti tanti altri poi si avranno anche nel corso dei prossimi mesi 5 anni lunghi adesso è una parola grande anzi forse passano anche troppo velocemente come i 5 anni che avremo davanti 5 anni intensi 5 anni in cui abbiamo già tante basi perché tanti progetti li abbiamo anche compiuti altri sono venuti a compimento alla fine altri li abbiamo iniziati e probabilmente vedremo il risultato in questi 5 anni quindi sì secondo me è un bilancio positivo sicuramente come in tutte le cose uno sarebbe anche non corretto se dice c'è ancora tanto da fare e soprattutto quello che sul quale secondo me questi 5 anni dovremo impegnarci e soprattutto dare una solidità alle persone che vivono nel nostro comune perché avete visto in questi qualche mese fa eccetera il problema delle bollette quindi bisogna che il comune inventi qualcosa per poter sostenere il più possibile le nostre famiglie e questa è la sfida dei prossimi 5 anni oltre chiaramente al fatto di investire sugli immobili sulle strade su tutti i progetti ma soprattutto e dare la possibilità alle nostre famiglie di essere specialmente quelle più giovani e anche i servizi adeguati servizi adeguati col 118 altri servizi cercheremo di attivarli perché chiaramente qualche altro ente sovracomunale dice tanto ma alla fine poi quando si tratta di portare i servizi sul territorio alla fine è l'entroterra e noi non è che siamo l'entroterra come il comune che c'era l'altra volta c'era Cagli o c'era Santabundio noi siamo un'entroterra per modo di dire perché siamo a 15 km dal mare però la mancanza di servizi si sente a partire dai bus dalle corriere dal trasporto pubblico locale e quindi noi dobbiamo sostituirci a un servizio che è appunto trasporto pubblico locale perché perché chiaramente rispetto a agglomerati ben più grandi quindi città della costa da noi non c'è il ritorno economico l'altro giorno sul giornale c'era la bocciatura del piano dei rifiuti e una consigliera regionale ha detto attenzione io l'ho detto nella mia diretta del sabato però ha detto anche la consigliera regionale attenzione perché il piano è stato bocciato il problema del piano bocciato e quindi comunque sia non risponde a certe norme eccetera giusto o sbagliate che siano ma l'altro problema è che alcune aziende che gestiscono si troveranno siccome non possono importare o mettere nei loro discarichi i rifiuti speciali non pericolosi si troveranno ad aumentare le tariffe perché? perché sennò si abbassano gli utili e questa è la cosa che non stride uno casomai guadagnerà un po' di meno nella società pubblica dov'è il problema invece no e quindi su questo io invito tutti i cittadini insomma a tenere l'attenzione però la sfida è questa fondamentalmente anche tutti i servizi soprattutto quelli che viaggiano nella sfera del pubblico devono essere riportati a una dimensione diversa che non è quella della società privata che fa l'utile per i soci ma la società che garantisce un servizio al cittadino ed è fondamentale e questa è la base Sindaco grazie per essere stato nostro ospite speriamo di reverla nei nostri studi prestissimo le prossime settimane chiamate e noi arriviamo grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno seguito buona serata a tutti grazie ancora Sindaco grazie